Musica Buonasera, ben ritrovata in una nuova puntata di Angoli quest'oggi ci occuperemo di salute e di cultura psicologica dopo invece ci dedicheremo allo sport faremo un po' il punto della situazione con Massimo Moscardi del Corriere di Como intanto vi ricordo la nostra mail angoli-espansionetv.it utilizzatela come sempre per comunicare con noi con il nostro programma darci commenti, suggerimenti, qualche consiglio perché no adesso però è arrivato il momento di presentare la mia prima ospite di oggi Manuela Pini, buonasera Buonasera Claudia psicologa, psicoterapeuta e coordinatrice media di MIP7 Cos'è questa sigla così strana? Cosa significa? Spieghiamolo MIP sta per maggio di informazione psicologica ed è arrivato ormai alla sua settima edizione è un programma organizzato da Psicomunity che è la più grande web community degli psicologi italiani qui aderiscono proprio psicologi e psicoterapeuti che sono regolarmente iscritti all'albo e che offrono alla cittadinanza su scala nazionale degli interventi, dei seminari, degli gruppi esperienziali per promuovere la cultura psicologica e per fare in modo che arrivi una corretta cultura psicologica all'utenza Quindi a chi si rivolge? C'è un pubblico, un target specifico o si spazia da adolescenti a persone anche più in là con l'età? Si spazia proprio da tutto il ciclo di vita perché gli psicologi cercano ogni anno di offrire sempre delle iniziative anche a partire dalle richieste proprio dell'utenza per tutte le età quindi come poi vedremo anche qui a Como ci sono proprio degli interventi rivolti sia alla psicologia evolutiva all'adolescenza sia invece agli anziani o all'età adulta in genere Quindi ad esempio per quanto riguarda gli adolescenti ci sono delle tematiche specifiche che affrontate o comunque a cui prestate particolare attenzione? Sì, qui a Como per esempio verranno realizzati degli interventi relativi alla meditazione con gli adolescenti alla possibilità della gestione dello stress attraverso la mindfulness per loro e poi anche degli interventi legati al tema spinoso di internet e dei nuovi media nella gestione appunto poi anche dell'educazione degli adolescenti In cosa consiste questo mese, se possiamo definirlo così, di informazione psicologica? Sono semplicemente delle prove, comunque delle visite di prova o degli incontri più lunghi nel tempo? Ci sono entrambe le cose, allora il MIP offre essenzialmente seminari e interventi gratuiti relativi proprio alla psicologia in generale con la possibilità di specificare meglio di che cosa si occupa la psicologia e anche tematiche specifiche Dall'altro lato offre anche la possibilità di un colloquio gratuito a chi ne fa la richiesta con lo psicologo potremmo dire del quartiere cioè lo psicologo più vicino a sé Ovviamente poi c'è la possibilità nel caso in cui ci sia la necessità di intraprendere un percorso ma lo scopo del MIP è proprio quello di fare in modo che le persone possano conoscere meglio che cosa fanno gli psicologi e gli psicoterapeuti e trovare anche il professionista più vicino a sé Ecco, anche perché è una cosa che è spesso sottovalutata proprio perché si tende a pensare che si va dallo psicologo solo quando c'è un problema effettivo in atto invece magari può essere questa l'occasione per capire meglio come funziona che tutto sommato non è necessariamente obbligatorio avere una patologia o un qualcosa Esatto, questo mi permette anche di raccontarvi che lo slogan proprio del MIP è che non c'è salute mentale che sia scollegata alla salute Quindi salute come un termine proprio che ci permette di considerare sia il nostro aspetto fisico quindi la salute fisica più legata proprio all'intervento della medicina ma anche alla salute e al benessere psichico perché mente e corpo costituiscono un'unità indissolubile e quindi è necessario anche intervenire con la possibilità di prevenzione del benessere psicologico Ecco, so che c'erano delle slide che aveva portato magari se dalla regia riescono a mandarcele seguiamo così è più facile anche per i telespettatori a casa riuscire a seguire il filo del discorso Quindi, commentiamole insieme Vabbè, questa è sostanzialmente una sorta di locandina introduttiva Sì, e potrete trovarla Con il sito proprio dove trovare tutte le informazioni Andando avanti Ecco, per tutte le informazioni riguardo agli eventi previsti al calendario come prenotarsi per partecipare potete consultare il nostro sito www.psychologymip.it e anche la nostra pagina facebook che ha parecchi contatti oppure telefonare alla nostra referente che è la dottoressa Silvia Ostini al numero 347 87 07 457 Quindi questi sono tutti i nostri contatti per partecipare al meglio al MIP Tenete conto che il MIP vi offre appunto un colloquio gratuito con un professionista e in generale il professionista più vicino a voi e delle conferenze gratuite che sono distribuite su tutto il territorio e che riguardano differenti tematiche dalla bioenergetica alla psicosomatica fino ai rapporti tra la psicologia e l'arte il teatro, la narrazione aspetti legati alla conflittualità piuttosto che alla sessualità oppure, come dicevamo prima, lo stress e le modalità per poterlo gestire al meglio Quindi ad esempio per quanto riguarda perché è un tipo di iniziativa che si svolge in tutta Italia quindi per tutto il mese di maggio Per quanto riguarda il territorio comasco, quali sono invece? Cosa prevede questo maggio dell'informazione psicologica? Allora, prima di tutto siamo 16 psicologi che si distribuiscono appunto sul territorio comasco e danno la possibilità di avere studi aperti a Como, Cernobbio, Cantù, Arosio, Lurata e Cacivio Ovviamente, come vedete dalle slide facciamo parte del gruppo di Psicomunity che in Italia raccoglie 7500 iscritti e che gestisce proprio l'elenco online degli psicologi e degli psicoterapeuti italiani Questo vi garantisce la professionalità di coloro che partecipano a questa iniziativa Sono previsti 17 eventi gratuiti e gli psicologi che sono disponibili a titolo gratuito abbiamo detto che sono 16 Le tematiche del MIP 7 a Como anche a partire da quello che ci avete fatto capire voi nelle precedenti edizioni voi appunto la gente comune sono legate alle emozioni, allo stress alla gestione dello stress e delle ansie alla conflittualità alla relazione tra il corpo e la psiche e anche appunto a tematiche relative Possiamo soffermarci un attimo magari se torniamo proprio alla slide precedente soffermarci brevissimamente su ciascuna delle tematiche Sì, allora abbiamo visto delle tematiche più di psicologia generale quindi legate proprio alla comprensione dei meccanismi che stanno alla base delle emozioni e di come evidentemente possiamo trovare nelle emozioni, nei pensieri che magari affollano la nostra mente sia quelle che sono le nostre risorse per poterle gestire ma anche magari quelle che sentiamo come delle nostre fragilità Allora questi seminari vogliono prima di tutto far scoprire come funziona quali sono i meccanismi della nostra mente per poter essere sempre più in grado di padroneggiarli Proprio perché banalmente lo stress è una cosa che riguarda la vita di tutti i giorni di chiunque quindi riuscire a partecipare a un seminario di questo tipo comunque è interessante per tutti per ogni fascia d'età e in particolare poi per i lavoratori o comunque chi soffre particolarmente Per esempio, davvero lo stress non esiste una medicina contro lo stress potremmo dire questo però ci sono vari interventi che permettono di trovare magari delle strategie che ognuno di noi può trovare più adeguate per sé quindi può essere appunto la meditazione le danze meditative piuttosto che il training autogeno o ancora la possibilità di narrare per esempio se stessi oppure anche degli interventi più legati alla bioenergetica L'altra tematica era invece proprio quella della conflittualità e della sessualità e degli aspetti legati alle relazioni e poi ovviamente a questa grande connessione che esiste tra corpo e mente e quindi come spesso il nostro corpo si faccia sentire e ci racconti anche cose che magari non sono ancora tracciate dai nostri pensieri Quindi per imparare un po' a conoscersi meglio a conoscere anche un po' questi riconoscere le avvisaglie che il nostro corpo ci dà quando magari c'è qualcosa sotto Certo Poi abbiamo detto per quanto riguarda l'adolescenza ci sono anche lì dei seminari specifici Che cosa riguardano? Perché nell'ambito adolescenza si sa che possono subentrare tante altre sottotematiche C'è qualcosa da questo punto di vista? Sì, come specificavamo prima c'è proprio l'attenzione ad un tema più legato a internet, ai nuovi media che questo è sicuramente una delle tematiche che coinvolge dal punto di vista educativo tantissimo i genitori sapere un po' come gestire la rete e fare in modo che sia una risorsa e non un pericolo e dall'altro lato c'è un gruppo esperienziale rivolto proprio ad adolescenti che possono imparare la pratica della mindfulness e l'ascolto quindi del respiro e un po' la centratura sul loro corpo per gestire lo stress magari in momenti particolari come possono essere gli esami che magari stanno per affrontare fra poco Bene, a questo punto non ci rimane anche che dare proprio le indicazioni sul come aderire abbiamo visto tramite sito tramite pagina facebook e il numero della referente cosa bisogna fare? Si contatta attraverso questi contatti ci si deve prenotare? Come funziona? Sì, ci si prenota attraverso appunto il nostro pannello MIP mandando una mail allo psicologo o psicoterapeuta che organizza la serata è possibile altrimenti telefonare alla referente e allo stesso modo tramite questi contatti è possibile chiedere un colloquio gratuito tenete presente che proprio domani a Palazzo Cernezzi ci sarà la conferenza stampa alle 11.30 rivolta anche al pubblico per la presentazione ufficiale dell'evento e il 9 maggio saremo in biblioteca a Como noi psicologi aderenti per presentare dalle 2 del pomeriggio fino alle 7 proprio questo evento parlando direttamente con la cittadinanza mi preme inoltre ringraziare se è possibile i comuni le città che hanno dato l'approvazione di questa ormai un po' tradizione a Como che sono quindi il comune e la provincia di Como il comune di Cantù Como Maslianico Cernobbio Lurate Caccivio e anche l'approvazione da parte dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia e della Regione Lombardia proprio perché è un evento quello del MIP a scala nazionale e che si collega però direttamente con il territorio con il territorio chiaramente quindi si parla di un evento a portata nazionale però poi per poter essere effettivo nel concreto deve essere soprattutto legato agli enti al territorio fare questa sorta di rete che permetta di poterlo organizzare proprio per questo motivo volevo chiederle avete già dei dati magari non relativi chiaramente all'edizione che deve ancora partire ma che già possono essere visti positivamente rispetto alle passate edizioni sì pensate che sono 40.000 le persone che in questi sette anni si sono avvicinate alla psicologia attraverso il MIP sono stati organizzati 3.000 seminari ed eventi gratuiti che prevedono appunto sia degli interventi teorici che dei gruppi esperienziali e sono stati più di 4.500 i professionisti che hanno messo a disposizione a titolo volontario e gratuito le proprie competenze con un coinvolgimento di 75 province italiane pensate che il MIP si presenta a voi a maggio ma la macchina organizzativa funziona tutto l'anno e quindi noi psicologi ci sentiamo veramente da tutta Italia durante tutto l'anno per organizzare questo evento in cui crediamo moltissimo e che ci avvicina alla cittadinanza le date per essere certi partono proprio rappresentano tutto il mese di maggio quindi magari uno escluso perché è festivo quindi sostanzialmente dal 2 al 31 di maggio è possibile sì la prima iniziativa a calendario è l'8 maggio un po' per evitare che tramite ponti qualcuno potesse perdere l'occasione di partecipare domani appunto ricordo ancora la conferenza stampa e poi dall'8 in avanti tante iniziative fino alla fine di maggio a cui poter partecipare per scoprire quali sono vi rimandiamo ancora una volta al sito www.psychologymip.it slash como per quanto riguarda il nostro territorio io ringrazio Emanuela Pini per essere stata con noi averci illustrato un po' il quadro della situazione averci fatto capire come poter partecipare grazie grazie a voi noi ci fermiamo per pochissimi istanti di pubblicità torniamo tra pochissimo per parlare di sport grazie a tutti